Professoressa De Pietro, non solo licei, qual è il valore della scelta dell'Istituto Tecnico Professionale? Allora, l'ordino della scuola secondaria di secondo grado ha dato un nuovo slancio, tant'è che l'istruzione professionale è finalizzata quindi a garantire, nell'ambito proprio delle aree produttive, capacità operative, capacità di progettazione e realizzazione di soluzioni per la gestione di processi, servizi e impianti. Tali capacità vanno inquadrate in una adeguata conoscenza, quindi dei fondamenti scientifici e tecnologici. Gli istituti tecnici, che hanno comunque durata quinquenniale, offrono ai nostri giovani conoscenze teoriche e applicative, spendibili in contesti che sono di studio, di professione, di lavoro, nonché di università e forniscono un'ampia gamma di abilità cognitive capaci appunto di risolvere problemi e sapersi gestire autonomamente.